1, 2, 6, 9 Addio alle arti, questa manifestazione di dibattite, di concerti sulla promozione culturale a Bologna Un problema negli ultimi anni Ne parliamo con Elisa Coco dell'Associazione Comunicativa E una serie di proposte relative anche a tematiche specifiche come nel nostro caso la violenza contro le donne Che hanno nella creatività e nella proposta culturale un punto importante di relazione con la città e di cambiamento culturale Quindi in tutte le nostre iniziative appunto riteniamo che il discorso della visione, del pensiero Delle persone, delle pratiche concrete che queste attuano nella loro vita quotidiana siano fondamentali Per esempio sul discorso della violenza contro le donne Noi abbiamo sempre promosso una pratica che noi chiamiamo Mascio Free Zone Che è quindi una pratica di incontro, di socialità, di cultura in luoghi Che siano sensibili appunto al benessere delle donne Quindi anche un concetto di sicurezza diverso dalla sicurezza che viene promosso dai media e anche dalla politica È un modo di vivere la città e la condivisione Che sia appunto attento a dei comportamenti e delle sensibilità di rispetto nei confronti delle donne Quindi questo è un po' un esempio di quella che è la nostra pratica Poi abbiamo realizzato iniziative di diversa natura Che vanno da le mosse di arte contemporanea alle performance Su determinate tematiche che ci sono molto a cuore Come quella appunto dell'ottica di genere Che è un'ottica che secondo noi può promuovere un cambiamento reale Delle relazioni fra uomini e donne nella città e negli spazi sociali Il 23 giugno scorso avete promosso la manifestazione Mettiamoci la Faccia Su un monito appunto contro la regressione della cultura a Bologna Da parte delle istituzioni che hanno tagliato molti fondi E cancellato un sacco di eventi importanti Specie quest'anno E una continuazione del percorso culturale della vostra associazione Cosa avete fatto in concreto in questa giornata appunto al Baraccano? Allora sì, l'iniziativa si chiamava Cultura Creativa Bologna Mettiamoci la Faccia È un appello che noi abbiamo lanciato in pochissimi giorni attraverso la rete Quindi attraverso main list e facebook Rivolto a tutte le realtà che noi conoscevamo O di cui comunque avevamo notizia Che a Bologna fanno produzione culturale e promozione culturale Lo stimolo era quello di partire da delle esperienze Che spesso sono critiche e negative Per portare invece un atteggiamento propositivo Quindi di immaginazione, di strumenti e di proposte Per cambiare questo stato di cose Perché come dici tu a Bologna c'è un regresso culturale Ma in realtà c'è un paradosso Perché il regresso culturale è dettato dalla mancata progettualità Da parte delle istituzioni E la mancata valorizzazione di un tessuto associativo E di produzione culturale Che in realtà è ricchissimo È uno dei più ricchi in tutta Italia È sicuramente un'esperienza che va al passo Con molte esperienze europee E quindi ci sembrava assurdo Che molte realtà come la nostra Si trovassero nell'impossibilità appunto Di portare avanti i propri progetti Quindi da quell'appello appunto lanciato in pochissimi giorni Con strumenti limitati È nata una partecipazione grandissima Perché hanno partecipato più di 40 associazioni Oltre 100 persone E lo stimolo che noi abbiamo voluto dare È stato non quello di fare la lista delle lamentazioni Perché appunto sappiamo che ognuno di noi Ha delle esperienze negative da portare Ma proposte concrete Quindi a ogni realtà che è intervenuta Che ha partecipato Abbiamo chiesto di concretizzare appunto le idee Le buone pratiche che già si fanno O le idee per il futuro insomma In delle proposte Per cui abbiamo raccolto in questo documento Una serie di ipotesi di lavoro Che riguardano due aspetti Uno è quello della relazione fra le associazioni E quindi riuscire a metterci in rete Aumentare la collaborazione fra di noi Conoscerci di più Riuscire a coordinarci meglio E mettere anche in comune risorse Attrezzature, strumenti Spunti, idee e competenze L'altro invece riguarda il rapporto appunto con le istituzioni Quindi fare massa critica Avere più forza E più potere Far valere il lavoro che noi abbiamo fatto Che è un lavoro grande Quindi la ricchezza che siamo E farla valere insieme Quindi questi sono i due livelli Le proposte sono state molte Le abbiamo portate qui In queste due giorni Al Blogos Proprio per continuare un percorso Perché contemporaneamente Sono partiti questi due pelli Quindi appunto con l'iniziativa di Buground C'era una vocazione di fondo Che era molto simile E quindi abbiamo deciso di unirli E quindi di portare qui le nostre idee Che domani verranno discusse nella parte più propositiva Speriamo che diventino della realtà Insieme appunto ai pensieri E alle opinioni di tutte le altre associazioni Che hanno aderito in queste due giorni di dibattiti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti